ciao ragazzi prima di iniziare il video vi dico una cosa iscrivetevi lasciate un bel like e attivate la campanellina così siete sempre aggiornati nei miei video iniziamo bella luce ragazzi oggi siamo arrivati su brawl stars allora rega possiamo fare qualcosa qualche missione allora vorrei raggiungere la tasse enorme no allora sto scherzando allora sto scherzando non faccio le missioni andiamo sul mio primo account allora siamo sul mio secondo account ci mancano pochi poche io viverei tipo le 50 ok mille non ce ne sono riuscito allora un po di partita combo se portiamo subito con una parte un po di partita mi senti che ok rega non dobbiamo usare botti usiamo un altro brawler però avete visto che ho incontrato dei bot quindi rega ci vediamo quando sono almeno arrivate le 40 ok rega eccoci qua sono alle 43 allora ci ho messo 5 minuti per fare pochi trofei 20 ma non mi ricordo tanto ci ho messo un po scusate per questo scarso adesso possiamo almeno arrivare le 50 poi il prossimo video arriveremo altre 50 coppie e 11.000 boom allora io giocherei con allora colette vabbè ho ancora messo anche il cavolo me ne frega allora potremmo farla subito al grado a livello 7 dai facciamola a livello 7 allora ho fatto solamente per voi che ho portato a livello 7 allora posso volerlo allora rega allora ho fatto 3 minuti è stato un po' da luce non è un po' da luce I just want to be fresh Hi dog, people stay alive Don't mess with the whistle I just want to be friends Wait for me Hi dog, people stay alive Okay guys, I don't want to play with the whistle I want to play with some I want to play with the whistle Let's play with the whistle Let's play with the whistle Let's play with the whistle No, 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 no I should go on the whistle I'm afraid to lose After the whistle I'm already losing All right For pain and for glory I'm the best Face of fury Face of fury Face of fury You're not so funny I'm the best 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 Oh my God no non c'è ancora la partita vabbè ci allora rega ci lasciate lasciate un po di like e continuerà ci vediamo al prossimo video ciao